Sono fiero di presentarvi la nuova generazione di tassellatori SDS Plus Milwaukee, che sorprenderà il mercato con nuove funzionalità, oltre che con la foratura più veloce che abbiate mai sperimentato. Il nostro team globale ha visitato molti luoghi di lavoro in tutto il mondo e ha analizzato le applicazioni di tutti i giorni dei nostri utilizzatori finali. Da questa ricerca abbiamo capito che, poiché il numero di forature effettuate da un utilizzatore durante una normale giornata di lavoro è aumentato significativamente con gli anni, la chiave per migliorare la produttività e risparmiare tempo e denaro è la velocità di foratura del tassellatore. Quindi, guardando la nuova gamma, non solo vedrete quattro tassellatori con un nuovo aspetto, ma sperimenterete un prodotto che ridefinisce i livelli di prestazione per l'energia del colpo, ovvero la forza con cui il tassellatore colpisce il materiale, i colpi al minuto, e quindi quante volte al minuto il tassellatore colpisce il materiale, e i giri al minuto, cioè quanto velocemente gira il tassellatore per rimuovere il materiale, il che non migliora solo l'avanzamento della foratura, ma anche la vita della punta. Per ottenere la foratura più veloce possibile, tutti e tre questi fattori devono essere in perfetta armonia. La nostra elettronica RedLink Plus, in coppia con il motore Brushless PowerState, vi permetterà di sfruttare a pieno e di provare il controllo totale e le prestazioni che questo tassellatore è in grado di fornire. Ora diamo un'occhiata agli aspetti di sicurezza del tassellatore. Un mandrino meccanico con chiusura di sicurezza è uno standard che protegge l'utilizzatore da seri infortuni in caso di bloccaggio improvviso della punta. Considerando il numero di tondini che si usano oggigiorno, succede spesso che praticando centinaia di fori ne si colpisca uno. Quindi abbiamo fatto un passo in più e abbiamo incorporato il nostro sistema Autostop brevettato. La nostra elettronica include un giroscopio, simile a quello che avete sul telefono per ruotare i video, le immagini e le schermate delle app semplicemente ruotando il telefono. Appena aprimete il grilletto, il sensore memorizza la posizione a zero gradi di partenza. Se in seguito la punta si blocca, il sensore reagirà al movimento rapido dell'utensile attivando il sistema Autostop. Questo impedisce istantaneamente una rotazione eccessiva, evitando pertanto infortuni al polso. Un'altra innovazione brevettata da Milwaukee. Con un utensile così potente, dobbiamo considerare anche le eccessive vibrazioni. Il nostro meccanismo antivibrazione le riduce a un valore di 14,2 metri al secondo quadro quando si scalpella o 12,9 metri al secondo quadro nella modalità di perforazione. Un'altra nuova funzionalità dei nostri tassellatori è il tasto di cambio modalità più grande, che consente un controllo totale anche quando si indossano i guanti. Questa nuova generazione è disponibile in quattro versioni. La versione base è il tassellatore che vi ho appena mostrato. La seconda versione ha la caratteristica che, tirando semplicemente l'anello verso di voi, la nostra soluzione FixTech vi consente di cambiare facilmente il mandrino da un SDS Plus a un mandrino da 13 mm in metallo per l'uso con punte per acciaio e legno, o punte normali se necessario. Ma c'è di più. Entrambe le versioni sono anche disponibili con l'opzione della tecnologia One Key, quindi ora potrete gestire e tracciare i vostri tassellatori Milwaukee SDS Plus con la nostra piattaforma gratuita. Tutti i tassellatori sono disponibili in versione senza batteria o forniti da due batterie high output M18 da 5,5 A che vi daranno la migliore autonomia che abbiate mai avuto. Tutte queste funzionalità, insieme con le fantastiche prestazioni e potenza, rendono la nostra gamma di tassellatori SDS Plus Milwaukee la scelta più ovvia per i nostri utilizzatori. Grazie per l'attenzione. Rimanete protetti e produttivi.